Un volto pubblico assistito al primo convegno sulla giornata universale dei diritti dell'infanzia. L'evento, organizzato a Rotary Club di Licata, presso la sala del Palazzo Frangipane, sede della Banca Popolare Sant'Angelo, ha riscosso notevole consenso tra i presenti, data la nobile causa. Notevoli gli interventi che si sono susseguiti nel corso della serata. Ad aprire lavori è stato il presidente del Rotary Club, Rosario Criscimanna, per poi assistere all'intervento della docente Lina Vizzini di Palma di Montechiaro, con la poesia all'altezza dei bambini. Hanno relazionato anche il presidente di Federvita Sicilia, Giuseppa Petralia, e la referente regionale del progetto nati per leggere, Provvidenza Maria Mogavero. A moderare il meeting, il segretario del Rotary, Emanuele Alescio, intanto è Accendi la luce del Rotary, il tema dell'anno, sul quale si incentra l'operato dei soci del club, sempre sensibile alle delicate tematiche che imperversano nelle diverse realtà.